Non male questa pittinatura così, parlavo del sopracciglio. Allora, cari conigli, che vi nascondete e vi bardate dietro le chiacchiere, accendiamo la luce per illuminare il bulbo, per donargli un tocco di vigore, per renderlo più luminoso, per elargire voi il calore. Allora, io sono il falò, un omen omen, in realtà è uno mignolo. Ora, dopo questa freddura, un perverso in questi giorni, naturalmente, un video molto seguito di un uomo farneticante e totalmente incosciente della sua immagine allo specchio, che continua a voler palagiare i menti deboli, i ragazzini, o, essendo nostalgico, passatista, allietare gusti, tra virgolette, cinefili, di persone oramai là, con l'età, age, che, oltre ad aver perso i capelli, non sono autoironiche, come il falò tipo. Viene presentato questo personaggio, che non si dichiara personaggio, ma in verità è una mascotte, l'emblema della schiazzezza sul web, e soprattutto, alletta le coscienze di chi fa della retorica, il suo modus vivendi, e schiettamente, ripeto, non vuole osservarsi dentro, e non vuole neanche giudicare obiettivamente, attraverso questo obiettivo, chi è, non specularmente, interiormente, ma questo del grando, indubbiamente. Ora, è rappresentato da un tipo, tutto azzimato, in ghinghari, che lo introduce, velocemente, in maniera repentina, repentinamente, Dunque, dice poi, dopo che questo personaggio si è seduto, rischiando, fra l'altro, di spaccare la sede, perché è un peso massimo della cultura, no? Ecco, dicevo, poi la conversazione involveremo in una chiacchierata informale, involvere, non ha, diciamo, una connotazione positiva, declineremo, digraderemo, o sono persone degradate, surclassate, non lo so. Si inizia con Crimes of the Future, questo film è venerato dai neofiti, del cinema di Cronenberg, e, da sottoscritto, ripeto, il commissario Fanò, disponibile sulla maggiori catena del librario online, ha ragion veduta, detestato, non posso capire il cinema di Cronenberg, questo è l'autore, poetica e indagine divorante, un film inguardabile, così come The Norman, di Robert Eggers, altro regista elevato a Genius, in seguito, con la mezza stronzata, che è The Witch, e a quel film, ecco, formalmente ineccepibile, ma vuoto, e manieristico, che è The Lighthouse, e non ci ha deliziato, perlomeno, voi sì, parlo a una platea inesistente, come il grande Rupert Hopkins, direi per una notte, perché sono un pagliaccio io, dicevo, Robert De Niro, King of Comedy, io, autore fra l'altro, anche, del comediante, non ho titoli di studio, da testare, ma vi prendo a testate, scrivo, per due testate, giornalistiche, ma a differenza, di qualche d'un altro, non espongo, con fierezza, ciò che non fu acclarato, a livello istituzionale, istituzionalmente, ma questi discorsi, io non sono un critico, perlomeno, mi è stata data la patente di critico, chi mi segue, chi mi segue meglio di followers, iscrivetevi però al mio canale, ci tengo a ribadirlo, e parte bene, riconosco, che per circostanze di vita, per eventi, per scelte, non attestare, giusto appunto, il mio sapere, la mia profonda, conoscenza cinematografica straordinaria, comunque inconfutabile, e ne vado orgoglioso, e lì, abbiamo rovinato tutto, perché, senza nulla togliere, a quelli che fanno il dumps, però gli esami sono vecchi, come il cucco, e si studiano registi, molto bravi, però appartenenti al passato, quindi c'è una magnificazione, poi, di Elio Petri, ma qual sarà il prossimo film, di Elio Petri? Sì, mi sembrano dei discorsi, un po' demenziali, da Elio, e le storie tese, ora, il problema è che, un tempo, gente come Elio Petri, che poi ha vinto l'Oscar, un miglior film straniero, non l'Oscar, dobbiamo essere precisi, chirurgici, netti, ecco, i netti, che parlate, blaterate, in maniera, ripeto, stramparata, Cina di Elio Petri, non interessa più a nessuno, perché se tu scegli un attore, anche al giorno d'oggi, che potrebbe competere, col talento di Gian Maria Volontè, c'è sottoscritto, no, dicevo, capace di medesimarsi, in qualsiasi personaggio, può essere oggi, un ville, a mode l'India, di per qualche dollaro in più, domani, protagonista, di indagine su un cittadino, di sopra di ogni sospetto, voi che sospettate sempre, qui si indaga, si indaga, all'interno della mia anima, perché io non voglio giudicare il prossimo, alla fine ci sono le forze dell'ordine, chi di dovere, che, chi di dovere, che deve fare, il suo dovere, ovvio là, dicevo, ora, con la voce un po' da Quinti di Sud, anche del cattivo, io non voglio essere cattivo, però questo, elevarsi a buoni, a nulla, e glorificare, un cinema, disgiunto, della vita, del presente, mi pare, veramente, un atteggiamento, retrogrado, e non, in linea, con i tempi, con i tempi, con i tempi, con i tempi moderni, un grande film, dice, Alicepri, se scegli essere un attore, in grado di rivaleggiare, ma non ne vedo, sulla piazza, dove di rivolgere, no, dicevo, sul mercato, il tuo frutticolo, perché il suo film è un treio, signora, i limoni, limoni, no, dicevo, baglioni, ora, faccia miseria, un tempo si investiva, perché comunque, per l'epoca, erano film dal budget sostanzioso, sostanzialmente, la questione è questa, questione america, trovi un brutto film, chi ha letto Omero, e lui non l'ha letto, dicevo, l'Iliè dell'Odissea, tutt'un'Odissea, questa vita, dicevo, uomini, oh, hissa, sissa, sissa, sempre, in gloria, questo cinema del passato, intoccabile, ecco, perché, se si investono, queste persone, si, si, asfaltate, no, tanti soldi, ci vogliono poi, dei proventi, degli introiti, a livello rimunerativo, ecco, c'è del sacrificio, è un cinema impegnativo, ma bisogna poi riscuotere, ecco, diciamo che le spese, devono essere soddisfatte, e anche superate dagli incassi, quindi, oggi un film così, non lo vedrebbe nessuno, perché, la classe operaria va in paradiso, e non ci interessa, ma comunque noi siamo del welfare, ma c'è qualcosa che mi storia, è un po' contraddittorio ragazzi, non ha le idee chiare, e vive il comunismo, ma buongiorno Livorno, è una lista di destra, compare il suo nome, sa, faccio come gli etnes degli intoccabili, mi sembra che, le cose ne inquadrino molto, diciamo che la teoria, non si aggancia alla pratica, perché si, vedo molti laureti, ma non vedo il loro, e poi diventano prezzolati, pagati, ma non vedo il loro, veramente quella passione viscerale per il cinema, perché poi, nei fatti concreti, io sto qua, con le gambe cavallate, a dire un sacco di strozzate, ma, dove sono questi film, e la sceneggiatura, l'hai scritta, veramente, questo io l'ho scritto, veramente, 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 io sono anche un grande adoratore di Clint, di Tissut, ovviamente, anche di Robert De Niro, questo è ovvio, e anche di Totò, e io sono un analfabeto, come questo De Niro, qui, diciamo, stilizzato, qui, è una caricatura, io sono carico, da parte, di, immagini copertina, Ambro Giordi, che è un grande disegnatore, Ammarghena, Ammarghena, un Ammarghena Roma, quindi, un borghese, piccolo piccolo, parla di cose, che non dico bene, no, dicevo, poi di Totò, Totò, il re di Roma, Totò, ora avrei io una domanda da farle, lo sai che significhi, che significhi, paliatone, paliatoni, con il doppiaggio di, Stalore, non Stalore, Stelio, no, di Oliver Hardy, Oliver, Oliver, che dice a Stelio, 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 sei proprio uno stupido, che c'è un po' la voce, da Torino a colla, no, la Jim Carrey di The Musk, ora dicevo, potrei essere più bravo di Gary Hall, ma comunque che, c'è il Christmas Carol, io, povero disgraziato, Minus Abens, sto rodendo da matti, da matti proprio, un sacco bello, il suo romanzo, come Carlo Bertone, diceva, ecco, non sono un po' la cosa, paliatone non esiste, che cosa significhi, noi cei italiani, non esiste paliatone, non esiste paliatone, lei mi tratta da ignorante, ma io sono Dante Alighieri, non Dante Cruciani, dei soliti ignoti, e lì, Vittorio Gasman, recitava la parte dell'ignorante, lui, il grande mattatore, che per fare una firma, insomma, non avrebbe saputo scrivere, neanche la lettera, di Totò, e Piri, la malafembina, ci mette mezz'ora, e Totò lo guarda, uomo di lettere, poi fa uno scarabocchio, sei stato in Cina, ma riagganciamoci al cinema orientale, perché c'è un grande bozhuo, e tachishitano, quindi, se voi volete parlare, le bolle di Sica, ma oramai Cina paliatone, non esiste più, parliamo anche di bobbolo, mangiamoci un bobolone, però insomma, il cinema, l'arte pura, da Hill e la tartaruga, che farà, farà, cosa farà? Farà, farà lei, farà, è un grande film, no, ce la vogliamo dire, è un astruzzetto, come The Crime of the Future, e The Norman, perché dovete sapere, che, secondo questa filosofia, molto campata per aria, molto campagnola, vi ricordate? A proposito, lascio la doppia, come si chiama questo cavallo? Mike Buongiorno, simbolo della mediocrità, come questo qua, no, dicevo, Caval Donato non si guarda in bocca, si chiama Donato, no, dicevo, Eddie Cabagnoli, campagnola bella, allora, uomini, secondo questa filosofia, che è protesa al benessere, all'empatia, a vivere collegiatria, dobbiamo impoverirci, essere come San Francesco, spogliarci di tutti i nostri beni, e vivere nelle caverne, per fare arte, per dipingere un graffito, si Morales, come facevano gli uomini di Neandertal, cari trogloditi, sì, a noi piace vivere da Caval Nicoli, perché questo Robert Eggers, la Universa, ha fatto bene il grande, nel Blomkamp, che glielo dà in culo, un uomo di cultura, di raffinatezza, di finezza, è un topilocchio, cerchiamo di moderarci, è chiaro? Come si chiama lei? Guardi che lei, è inutile che fa il pappagallo lei, no, dicevo, è perché quando ti danno la villa a Hollywood, droga puttane, non puoi essere più grande artista, il grande artista, è sinonimo di genio e secolatezza, questa visione un po', alla Michelangelo, alla Michelangelo, che il Papa gli disse, sì, io ti pago, però devi vivere lì, e dipinge a pelle a Sistina, e devi soffrire, devi martirarti dentro, perché solo attraverso questa sofferenza psicologica, già, può scaturire l'arte, l'arte del nostro sentire, del nostro vissuto, espresso e sternato, attraverso una manifestazione pittorica, o scultore, che dissi voglia, insomma, la pietà, personaggi che fanno pietà veramente, sì, quindi, dovete sapere che David Lynch è abbastanza ricco, non è ricco come Cristiano Ronaldo, ma è anche cronome, non mi sembra che sia proprio un poveraccio, quindi, attenendoci a questo discorso, Crimes of the Future, che non è affatto un capolavoranz, a me, ma è vero, una strusetta, diciamoci cosa, mi stanno i capolavori, sono altri videodrome, ho detto tutto, poi, ecco, quindi, secondo questa visione, del tutto sballato, dicevo, Cronenberg è uno sciagato, veramente, vive, mangia solo pane, cicorie, e poi, come il pittore, l'Igabù è tutto storpo, mangia anche la plastica, perché c'è quella metafora, la plastica, che tu non puoi capire, no, ho capito benissimo, ho capito benissimo, è un modo per, per coglionare gli spettatori, che credo veramente, a queste, con quell'altro che è Anzima, Vigo Mortensen, che sta su un seggio l'ore, sta, che lo imbocca lì, l'ESDU, poi, poi non si vede, c'è la dissolvenza, ma quelle arti, glielo metti tutti in bocca lì, tutti nuda lei, la cicatrice, tipo Cresce, mi pareva più buona, Deborah Haranger, eh sì, eh sì, quella di Highlander, e lei, mia madre era lei, non era buona con la signorina là, la buona, no, dissevo, ora, sì, quindi Scorsese è un grande putteniere, e beh, ha girato anche il Wolf of Wall Street, eh, però è un grande film, ha incassato parecchio, e, come è possibile, e quindi Robert Eglies, stando, deve fare veramente il Nosferatu, ma non il Nosferatu, la quarta versione, quella di Fritz Lange, e Munaway, eh, deve vivere nella cacabba, a livello proprio cimiteriale, manicomiale, mettete il manicomio, eh sì, eh, così, ricorderà, diciamo, quel periodo, quando sarà poi dimesso, no, eh, eh, e da questa sofferenza di ricordo, dell'armiscenza, tutto scavato, scanificato in viso, e lui potrebbe veramente interpretare, oh, eh, Nosferatu, è così, si fa arte. Ora, figliuoli, la bellezza, nasce anche da, un po' di ricchezza, ecco, quindi, questineggiare alla povertà, è sinonimo, di povertà, ma non economica, mentale, morale, quindi, di tutto cuore, vi offro un liquore, mi è sembrato un po' organizzante, così, venerdì, mi arriverà un pagamento, oh, sono sempre quasi 100 euro, eh, perché io c'ero su 100, anche se l'ho fatto molto, ho fatto la compazza, però c'ero, c'è tutto dove sta gente parla, mi sembrano, un po' di clown, di clown, come se tu sono, clown è questo, lo stai, lo stai qua, oh, ma fuori piove, piove, guarda come piove, senta come viene il ciuro, I'm singing, Dwayne, questa vita è tutta un'arancia meccanica, ma quasi quasi, io mi mancerei un'arancia normale, visto, quello è un quadro straordinario, eh, quello è il caravaggio, c'è un'arancia buona, questa è buona, secondo me è meglio di, di Clockwork Orange, adesso lo esageriamo, Clockwork Orange è veramente un cappellore, cappellore, fa veramente vomitare, fa veramente vomitare, Grazie a tutti.